Fabio, è questo il miglior giocatore del mondo? Questo è tutto? Eh sai, questo è quello che la gente sottovaluta perché pensano tutti quanti al pallone d'oro perché è un premio molto più pubblicizzato, ma questo in realtà è quello più significativo perché comunque viene votato dagli allenatori delle nazionali e capitani delle nazionali quindi non ci sono giornalisti, non ci sono tifosi, ci sono solo capitani e allenatori Qui c'era Zidane e Ronaldinho Zidane però stavolta 6 gol Zidane pure, pure la finale abbiamo fatto, ho capito Zidane, mi chieda a settare, Ronaldinho pure Fu emozionante perché ci misero tutte e tre così e poi c'era una barra che scorreva, erano tre barre come le corse dei cavalli, sai che a un certo punto si ferma Ronaldinho, si ferma Zidane, no a Bianca Ahahahahha Ahahahahha Ahahahahha